Sindaco di Bisuschio Giovanni Resteghini, padrone di casa oggi per la presentazione di questo distretto del commercio della Valceresio. Come nasce questo progetto e con quali finalità? Il progetto nasce su stimolazione di Ascom che ci ha coinvolti in un dibattito che prendesse in esame la situazione del commercio, oltre che la situazione generale della nostra vallata. Nasce anche dall'interesse di noi sindaci a lavorare insieme, questo è sicuramente un passo importante, abbiamo altri ambiti nei quali collaboriamo, ma sicuramente questo sarà un ambito molto concreto, poi dopo il riconoscimento da parte di Regione Lombardia, tutte le nostre azioni saranno finalizzate anche all'ottenimento di finanziamenti e alla realizzazione di progetti concreti. E le chiedo, questa rete di comuni nella Valceresio, quali sbocchi ulteriori può avere? Sicuramente ne ha già altri, tenga conto che noi lavoriamo tutti uniti all'interno del piano di zona, quindi per quanto riguarda la politica socio-sanitaria e sanitaria camminiamo insieme. Lo facciamo anche in altri ambiti, abbiamo ultimamente concluso per la seconda volta un bando per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, quindi vi sono diversi ambiti nei quali questo è un ambito sicuramente importante, anche dal punto di vista economico, anche dal punto di vista dei servizi dati alla popolazione, perciò sarà un ambito nel quale spero daremo il nostro meglio.